Ancora pessimi dati dal frontelavoro. Secondo l'Istat, le persone fuori dal processo produttivo ma potenzialmente impiegabili sono oltre 6 milioni. Ai 3 milioni di disoccupati veri e propri, infatti, si sommano quasi 3 milioni di persone che non cercano ma sono disponibili all'impiego. Non si fermano gli sbarchi in Sicilia. A Pozzallo, nel Ragusano, sono approdati 137 migranti, tra cui 37 bambini, soccorsi dalla Guardia Costiera a largo di Portopalo. La Marina Militare è invece intervenuta ieri sera in aiuto di una barca in difficoltà a 40 miglia a sud di Lampedusa. A bordo 95 persone, fra cui 25 minori. Attaccato dagli hacker di Anonymous, il sito web della National Security Agency americana nella bufera per lo scandalo intercettazioni rivendicata l'azione su Twitter. Al via, nella cittadina di Newton, nel Connecticut, la demolizione della scuola Sandy Oak, teatro il 14 dicembre, del massacro compiuto dal ventenne Adam Lanza. Uccise a colpi di fucile 20 bambini e 16 adulti prima di togliersi la vita. Le autorità, ogni singolo mattone dell'edificio sarà polverizzato. Torna in attività l'Etna, alte fontane di lava e cenere dal cratere di sud-est, registrate anche tre scosse di terremoto all'aeroporto di Catania, al momento operativo convocata a una riunione dell'unità di crisi. Stanotte torna l'ora solare, che segna il passaggio all'inverno con le giornate più corte. Alle 3 di domattina, domenica 27 ottobre, si dovranno spostare di un'ora indietro le lancette degli orologi. L'ora legale sarà di nuovo in vigore dal prossimo 30 marzo 2014. L'ora legale sarà di nuovo in vigore dal prossimo 30 marzo 2014.